Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda con tendenza all'aumento per incidente tra Vivio Compranare Firenze Nord a 11 e Barberino del Mugello in direzione nord. In A11 coda e attratti per traffico tra Luccaeste e Alto Pascio in direzione Firenze. Spostiamo in Fipili dove resta un chilometro di coda ancora una volta verso Firenze tra Empoli Est e Monterupo per cantieri. In riferimento ai lavori in corso tra Montelupo ed Empoli Est in Fipili, da domani 11 aprile parte la cosiddetta fase 2, nella quale è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata verso Firenze con chiusura della carreggiata in direzione mare. Per il traffico urbano di Firenze tra i cantieri e il via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo i lavori notturni sul viadotto dell'Indiano e la sostituzione della rete idrica in via Reginaldo Giuliani. Bua versi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!